La sua decisione di divorziare è irrevocabile, signora? Sì. E la sua, signore? Sì. E insieme a qualcuno? Non me l'avevi detto. Non ti sei chiesto perché volevo che tu venissi a firmare il divorzio? Sono tre volte da quando sono nata che mia madre cambia uomo. Rompe per ogni sciocchezza. Non potresti parlarle? Tua madre ha tutto il diritto di vivere con chi vuole. Pensi che dipenda da te o da me? Nessuno le chiede di Jair. Voglio solo capire cosa. Dove vuole arrivare? Sai perché mamma non dice a nessuno che la moglie ha tentato il suicidio? Ha paura che si sappia. Che cosa? Che l'ha fatto perché Samir la tradiva con lei. Dal regista premio Oscar per una separazione. Che cosa c'è, Amat? Credo che sia al corrente di tutto. Tutto cosa? Aspetta! No! È meglio che per un po' io e Fuad non abitiamo più qui. Tu mi avevi detto che casa nostra era quella, però. Per sempre quella. E io servo a colmare il vuoto lasciato da chi nella tua vita? Da nessuno. Qual è questo cazzo di malinteso che ci sta distruggendo la vita? Perché mi ha fatto questo? Lei ha il diritto di saperlo. Migliore attrice al Festival di Cannes, Berenice Bejou. Il protagonista di Il Profeta, da Arraim. Il passato. Un film di Asgard Faradhi. Non voglio più guardare indietro. A novembre al cinema.